Perfetto Perfetto Pure la tv famosa Si Ehm beh Ehm beh Amico mio Tu lo sai quanto ti possa voler bene Io ti do un consiglio perché tanto secondo me stai a perdere tempo soldi e la fascia fatti ridare la macchina quando scade il tempo stigni la mano e chi si è visto si è visto ma dammi retta a me senza queste cose che tanto ormai basta è finito mi raccomando ma te voglio bene non te scorda mai grazie